wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi voglio parlarvi di tutti gli aggiornamenti incredibili della nuovissima patch 7.1 ragazzi chiamata anche i 14 giorni di fortnite vi ricordo subito ragazzi di mettere un bel pollicione in su se vi piacciono i miei video di iscrivervi al canale e ovviamente di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento quindi ragazzi parliamo subito di quello che ci dovremo aspettare con questa pace ragazzi innanzitutto loro ci dicono che festeggeranno il natale con un evento che durerà due settimane ragazzi appunto chiamato 14 giorni di fortnite in questo evento ragazzi tutta la mappa sarà addobbata a tema natalizio e in varie aree della mappa ci saranno degli eventi in game vedremo anche ragazzi dei grandi grandissimi ritorni tornerà il lanciapalle di neve torneranno i cespugli addobbati a festa e anche il bus della battaglia sarà nuovamente addobbato a natale ma ragazzi non è finita qua in questi 14 giorni quasi ogni giorno troveremo delle nuove modalità a tempo limitato e rivedremo le migliori modalità a tempo limitato giorno per giorno e non solo ci viene confermato ufficialmente da epic games e ci viene consigliato di tenere sott'occhio lo shop ogni giorno perché è molto molto probabile che torneranno le vecchie skin natalizie e quelle nuove ragazzi quindi tanta tanta roba confermato il ritorno del pan di zenzero dello schiaccianoci della renna dal naso rosso e l'arrivo come vi ho appena detto di nuove skin natalizie non perdete ovviamente il mio video dello shop tutte le mattine alla 1 05 di notte modifiche anche per quello che riguarda salva il mondo dove ci saranno degli eventi dedicati al natale ovviamente da poter affrontare in singolo o insieme agli amici nuovi incarichi verranno sbloccati ogni giorno e poi ogni giorno nel negozio troverai un lama plus gratuito insomma ragazzi tante cose anche per save the world ma andiamo proprio nel cuore della pace parliamo ragazzi degli fda quindi fucili di assalto pesanti grandi modifiche per questi fucili hanno aumentato la precisione mentre miriamo del 10% hanno aumentato la precisione mentre siamo accovacciati del 10% hanno diminuito il rinculo verticale del 6% quindi non dovreste smirare quando sparate e hanno invece ridotto l'accuratezza senza mirare del 30% quindi mi raccomando utilizzateli sempre sempre mirando hanno anche fatto delle modifiche molto interessanti a quello che riguarda i palloncini adesso ragazzi potremo rilasciare penso di aver capito tutti i palloncini contemporaneamente premendo il tasto dell'accovacciamento il crunch button lo chiamano loro ovviamente o comunque anche quello del salto ragazzi credo che sia entrambi vadano bene potrete come sempre ovviamente sparare sui palloni e dice i play giocatori potranno usare il fuoco ah ok potrete sempre utilizzare il tasto per sparare per creare i palloncini se dovesse servirvi mentre siete in volo hanno anche però ragazzi diminuito l'altezza per aprire il deltaplano nelle modalità in cui ci viene concesso praticamente riducendolo alla metà da mille piedi a 500 quindi ragazzi un paio di scale e aprite direttamente il deltaplano da adesso ragazzi tutti i veicoli scivoleranno sul ghiaccio quindi quad quad croucher i caddy insomma gli aeroplani se andate sulle lastre di ghiaccio scivolerete via insieme ai veicoli allora ma qua si dice se noi facciamo un se noi killiamo un nemico con il no scoop con il fucile da cecchino in no scoop a figo da adesso se killiamo qualcuno con un fucile da cecchino in no scoop ci viene mostrato nella feed delle eliminazioni in una maniera un po più evidente a tutti i giocatori della partita hanno ah va bene ok se ci fanno se ci distruggono un veicolo un veicolo da terra quindi un quad o un caddy mentre siamo sopra non subiamo danno invece se ci distruggono un aeroplano subiamo danno hanno di nuovo aggiornata aggiornato la velocità con cui salire e scendere dalle torrette montate effettivamente danno ancora un po di problemi adesso ragazzi attenzione perché hanno aumentato del 50 per cento in più i danni della tempesta quando tocca gli oggetti costruiti quindi molto più veloce la distruzione da parte della tempesta di tutte le costruzioni costruita costruite e hanno aumentato anche ragazzi e il danno al giocatore quando si arriva all'ultimo cerchio della tempesta da 25 a 50 quindi ragazzi siamo praticamente e i danni andranno direttamente ovviamente alla salute hanno fatto dei grandi aggiornamenti anche per quello che riguarda il gameplay in generale hanno modificato e hanno migliorato la fluidità dei movimenti in generale del giocatore hanno modificato hanno migliorato anche come vi avevo già detto il sali scendi dalle torrette montate e poi ci parlano di alcuni fix alle zipline come vi avevo già detto nel video di ieri da adesso ragazzi non sentiremo più il suono delle zipline anche se i giocatori sono scesi a volte succedevano i giocatori adesso possono non riceveremo più ragazzi il boost di velocità quando scendiamo da una zipline ma probabilmente non ci sarà più il salto ma si scenderà normalmente come se fossi come se avessimo slacciato la zipline non possiamo utilizzare l'abilità di sprint ok probabilmente c'era un bug se si utilizzavano delle emote mentre si era sulla zipline ad alcuni andava più veloce la zipline hanno tolto anche questa e adesso ragazzi the zipline pool will not remain in the world after limiting the player while they were riding on questa non l'ho capita sinceramente le zipline non rimangono nella mappa dopo che sono stati eliminato quando è stato quando verrà killato ho capito quando verrà viene killato un giocatore che sta attraversando una zipline non rimarrà più sospesa a mezz'aria la zipline ma verrà riportata all'inizio e come vi avevo detto ragazzi arriva anche arrivano anche gli eventi invece quelli speciali la pop up caps e la friday night fortnite dove i materiali sono stati ridotti a 700 per la legna 500 per la pietra 300 per il metallo per l'explorer pop up e per la friday night 50 500 500 e 500 modifica anche ragazzi al parco giochi hanno sistemato dei bug che davano problemi quando si facevano le time trial challenge quindi le prove a tempo dove non funzionavano bene e adesso ragazzi non ci saranno più quei messaggi che succedeva ad alcuni giocatori che non faceva responare nella velocità con cui avrebbe dovuto farlo quindi modifiche anche lì piccoli sistemi piccole grandi sistemazioni anche per le performance da adesso ragazzi hanno modificato ancora di più i dettagli per chi utilizza la visuale epica dovresti riuscire a vederne ancora di più ovviamente supportano sempre tutte le risoluzioni hd e full hd hanno modificato hanno sistemato anche i movimenti mentre stiamo jumpando dovrebbero essere un pochettino più fluidi quando si utilizza la jump e hanno anche sistemato alcune musiche di sottofondo che si sentivano anche se non sarebbero dovute partire modificate anche le performance di alcuni deltaplani ci dicono quindi molto più comode allora i giocatori da adesso possono vedere i cosmetici nella schermata di caricamento premendo il tasto preview che potrebbe essere un tasto nuovo che ci viene fatto vedere io questo non l'ho visto hanno modificato delle animazioni per zenith per links per le mot phone che adesso dura 15 secondi e per l'infinite dub sulla lobby modifiche anche per quello che riguarda l'iOS e il mobile hanno messo dei nuovi tasti load setting tab visible for mobile players hanno hanno aggiornato le icone sono stati abilitati 60 fps per l'iPad e hanno abilitato il supporto per lo snapdragon 670 chipset insomma ragazzi un sacco di update per questa modalità per questa patch io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video se vi è piaciuto un super like noi ci vediamo in live ciao ciao